Ciao a tutti e benvenuti su Ideale Casa. Siamo in questo ingresso di una villetta multipiano con le scale che portano i piani superiori. La cliente ci ha chiesto di realizzare un armadio sottoscala con determinate specifiche funzioni. Ora lo monteremo e vedremo i particolari. La cliente ci ha chiesto di realizzare un armadio sottoscala con determinate specifiche funzioni. La nostra composizione è montata. È composta da un primo vano con un cesto contenitore. Il secondo vano ha debito a vallo portascalpe, all'interno che abbiamo forato la schiena per dare a reazione all'interno. Inoltre in questo vano abbiamo una foratura ogni 3 cm per poter spostare dei piani in base all'altezza delle scarpe. Il terzo vano, invece, è come appenniato. La finitura della nostra composizione armadio è in bianco opaco per poter dare più luce nella zona sottoscala e abbinarlo altrove delle pareti. Per tutti i nostri armadi su misura visitate il nostro sito www.guidearecasa.com e i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video!